Ci sono accettato a GearBest che è fatto No, 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 sono pure i favoli Sì, sì, no, ma pure un'espetta Eh, ma quando vai a metto cosa mi ha fatto il firmware No, non funziona No, non funziona proprio No, è... Non metto il Betaflight Il Betaflight Il Betaflight Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.